Per la prima volta nella storia, il Papa apre le porte per affrontare le domande e i problemi che riguardano tutti noi, come un leader che ispira il mondo con la sua fede. Buongiorno di presentare a te il Papa Francesco del Cielo. Buonasera. La regista premio Oscar, Dean Wenders, dice che non si può servire a due signori, o servimos a Dio o servimos a la riquezza. In la famiglia discutimos, in la famiglia a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. In la famiglia hai difficoltà, però queste difficoltà si superano con amore. In un mondo diviso. Saber escuchar. Las differenze nos dan miedo, perché nos hacen crecer. Un capo ha una misione. Non è debolità lo tenere, è fortezza. Avvicinarci gli uni agli altri. Abbiamo tanto da fare. E dobbiamo farlo insieme. Vi Benim enures. Detegre tutti i nostri sp Doriani. Noi quindi i nostri spoli anche le schifтрone. Enchidendi... Lo siete di tutti i nostri spolati! Noikraftono.